Canicattì Catania al Marco Tomaselli. Manga solo la conferma ufficiale che arriverà tra poche ore e poi partirà la caccia al biglietto per assistere alla gara che può sancire il ritorno della squadra rossa-azzura tra i professionisti. Infatti, con la vittoria di ieri al Massimino sancita dal rigore del capitano Cicciolodi, a sette giornate dal termine al Catania manca solo una vittoria, che potrebbe avvenire domenica al Tomaselli contro il Canicattì, a meno che il Locri che dista dal Catania di 20 punti non si faccia male da solo. Si aspettano migliaia di tifosi provenienti da Catania per questo match point che alla società del presidente Ross Pelligra non vuole fallire. Fine settimana intenso per lo stadio Nisseno, che ospiterà il sabato anche l'incontro casalingo della Nissa contro il Don Carlo Misilmeri.